A voi tutti ben ritrovati amici di Retta 7 e siamo rimasti ai margini e rimarremo ancora ai margini tant'è che ancora nella giornata di lunedì aria fredda, questa è l'aria fredda che è giunta, il vento nel weekend, nella giornata di domenica lunedì un po' più attenuato sì, ma comunque raggiungerà l'aria fredda soprattutto ancora una volta il centro e il sud e quindi noi rimarremo per l'ennesima volta ai margini, però avremo il bel tempo, avremo il bel tempo un po' più freddino rispetto ai giorni scorsi poi però attenzione le temperature in questa nuova settimana aumenteranno e assaporeremo di nuovo la primavera avremo delle temperature massime in netta ripresa col passare dei giorni, già a partire da martedì, mercoledì in poi comunque per il momento tempo bello, freddo a risveglio, temperature minime attorno allo zero o negative temperature massime lunedì amici di Retta 7 attorno ai 13-14 gradi, sui 16-17 gradi invece in Liguria lungo le coste per il momento è tutto, non ho altro da aggiungere, noi ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento meteo, arrivederci